La Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo ha ospitato l'incontro di studio dal titolo New Media New Generation, i giovani, la scuola, la famiglia, tra internet e tv. Un approfondimento volto a sviscerare le dinamiche che regolano il rapporto dei giovani con i mezzi di informazione anche alla luce della popolarità dei social network. Si tratta di un evento ormai che è diventato tradizione della città di Teramo e questo sicuramente va a merito degli organizzatori. Il fatto stesso poi che partecipino studenti delle scuole superiori con i loro professori vuol dire essere sempre più attivi in una comunicazione relativa ai rischi del bullismo, del ciberbullismo, della tossicodipendenza e quindi fare un'opera proprio di educazione a 360 gradi che è soprattutto necessaria nel momento in cui gran parte poi della vita degli studenti avviene fuori dalla scuola e fuori dalla famiglia. Assessore, per Teramo questa è una tappa importante e i ragazzi vedo che sono molto interessati a questo argomento. Sì, peraltro abbiamo dei relatori fantastici di risonanza internazionale dell'Università di Roma, c'è il professor Tognoni, c'è il professor Rusconi che stanno parlando poi di un argomento di straordinaria attualità e importanza che riguarda un po' i rapporti tra i nostri ragazzi e l'uso dei media e dei social network dove è un mondo come il mondo reale, cioè un mondo dove c'è il bello, il brutto, il cattivo, il buono e poi l'importante è l'uso che se ne fa. Poi c'è anche, ci sono dei rappresentanti della Polizia Postale che fanno un lavoro straordinario di prevenzione dei reati anche in questo mondo appunto virtuale.